Francesco Matter all'isola d'Ischia per due giorni al centro dell'educazione ambientale. Vediamo un po' i dettagli e le associazioni coinvolte. Allora, sì, siamo lieti di ospitare l'incontro nazionale della WEC, la WEC è la World Environment and Education Congress, una realtà internazionale che ha lo scopo di riunire realtà, istituzioni, persone che si occupano a vari titoli di educazione ambientale. Anche in Italia c'è una delegazione e l'incontro nazionale quest'anno si svolge proprio a Ischia nei giorni del 3-4 ottobre. Momento praticamente proprio per condividere buone prassi, ci sono rappresentanti da diverse regioni italiane che in queste due giornate, tra oggi e appunto domani in mattinata, andranno a condividere esperienze, buone prassi dei territori di provenienza. L'occasione sarà anche utile per lanciare una call, sempre per partecipare con esperienze, il tema è quello delle comunità sostenibili. Ad aprile ci sarà un ulteriore momento, sempre qui a Ischia, in cui chi risponde a questa call in qualche modo potrà portare proprio queste esperienze e approfondire, quindi sarà una tre giorni, quindi anche più lunga, proprio per aumentare questo approfondimento. L'occasione è anche gradita per far conoscere un po' il nostro territorio, che di biodiversità ne ha tanto, oggi abbiamo parlato di mare, domani dopo una mattinata di lavori ci sarà un'escursione su Allepomeo e poi la degustazione dei prodotti tipici, proprio per, come dire, conoscere anche questo ulteriore aspetto dell'isola. Quindi Ischia al centro, insomma, di questo incontro nazionale. Quindi un importante motivo di promozione della nostra isola, non solo, quindi educazione ambientale. Esattamente, che poi le due cose sicuramente vanno un po' di pari passo, quindi si ragiona su territori, comunità resilienti, di mare, di terra e Ischia sicuramente coniuga entrambi gli aspetti in maniera molto importante. E tra gli enti organizzatori il Regno di Nettuno, l'area marina protetta, abbiamo qui l'esponente Caterina Iacono. Sì, nell'ambito delle nostre collaborazioni con la rete UEC, in particolare per quanto riguarda l'educazione ambientale, quest'anno abbiamo organizzato sulla scia del successo dell'evento fatto l'anno scorso a Ischia, che è stata la prima scuola del Sud Italia di formazione per i formatori della rete UEC. Quest'anno si è deciso di rifare qui a Ischia un incontro di importanza nazionale per la rete perché è in vista del congresso che faremo ad aprile, sempre qui a Ischia, con l'esposizione delle buone pratiche raccolte da questo evento che abbiamo organizzato per questi giorni e da una call che lanceremo nei prossimi mesi e quindi ad aprile verranno esposti i risultati delle buone pratiche raccolte a livello nazionale nel campo dell'educazione ambientale. Ecco, il tutto si sta svolgendo nella splendida cornice del Bosco di Zaro, nella villa che fu di Lucchino Visconti, la Colombaia. Sì, infatti ringraziamo il Comune di Forio per l'ospitalità presso questa struttura meravigliosa e soprattutto anche chi si occupa della Colombaia. Nell'ottica di questa rinascita, di questo posto meraviglioso, è stato importantissimo per noi poter svolgere qui questo evento perché ha un duplice significato, soprattutto perché siamo in un bosco, siamo vicini al mare, parliamo di ambiente, parliamo di resilienza e quindi questo posto è un esempio di resilienza a tutti gli effetti.